tre motivi per cui avrete successo per cui serve questa la vostra soluzione quello che noi abbiamo fatto è stato utilizzare delle dei materiali già noti già sfruttati ma ingegnerizzandoli in una maniera totalmente alternativa che ci permetta di arrivare sul mercato con un prodotto che ha delle caratteristiche molto rilevanti dal mio punto di vista proprio perché sfruttiamo una parte dello spettro elettromagnetico che al momento è poco sfruttato poco conosciuto il visibile largamente sfruttato c'è una fotocamera qui che ci sta inquadrando l'infrarosso termico praticamente ormai ci sono cellulari che possono integrare delle fotocamere termiche eppure c'è una parte di infrarosso che al momento non è ben sfruttata ben vista a causa dell'elevato costo dei dispositivi commerciali attuali la nostra forza è rendere disponibile questa tecnologia a tutti quanti al mondo perché ne abbattiamo i costi rispetto a quello che è il prezzo diciamo commerciale dei dispositivi attuali il motivo principale è aumentare la sicurezza delle persone delle persone che guidano che stanno sulla strada che sempre di più vogliono avere macchine che possono garantire loro la famiglia tutti quelli che partecipano alla vita sulla strada anche i pedoni una maggior sicurezza quindi diciamo che credo che tutti coloro che si occupano di realizzare questi sensori noi compresi ma anche tutte le altre tecnologie abbiano come obiettivo quello di garantire una massima sicurezza alle persone che sfruttano che possano sfruttare o beneficiare della tecnologia e infine l'ultimo vantaggio devo dire della nostra società della nostra startup è il nostro team siamo molto coesi siamo molto indirizzati diciamo nel cercare di portare la nostra tecnologia sul mercato per tutti i motivi che ho detto in precedenza ovviamente e quindi credo che abbiamo un vantaggio competitivo rispetto agli altri ma per questo motivo qua per la spinta che ci mettiamo perché ci stiamo credendo davvero nel voler prendere questa tecnologia che ha richiesto anni di sviluppo ha richiesto sacrifici anche come come ricercatori e quindi abbiamo davvero la volontà di vederla commercializzata utilizzata dalle persone grazie mille allora vi aspettiamo milano 13 ottobre 4 e perfetto grazie grazie a tutti grazie a tutti